Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica ad avere già un programma. Un programma scritto dagli italiani per gli italiani. Programma energia. La rivoluzione necessaria. L'Italia sarà 100% rinnovabile. Programma ambiente. Tutela, valorizzazione, sostenibilità, economia circolare. Lavoriamo sul presente per costruire il futuro. Programma immigrazione. Obiettivo sbarchi zero. L'Italia non è il campo profughi d'Europa. Programma esteri. Un'Italia libera e sovrana. Amica di tutti i popoli. Per un Mediterraneo di pace e un futuro senza austerità. Programma lavoro. Un lavoro di qualità e una pensione con dignità. Al centro i diritti. Il merito è le competenze. Programma difesa. Meno armi, più diritti. No agli F-35. Stop agli sprechi e sostegno alle eccellenze militari. Programma sicurezza. Per una sicurezza partecipata da pubblico e privato. Una Italia sicura grazie all'impegno di tutti i cittadini. Programma scuola. La scuola torna protagonista. Più risorse, più qualità, più inclusione. Programma università. Il futuro è una strada che passa anche da me. Cultura e conoscenza sono la risposta migliore alla crisi. Programma giustizia. La giustizia al servizio dei cittadini. Processi più rapidi ed efficaci. Certezza della pena. Lotta alle mafie e dalla corruzione. Più strumenti per le indagini. Una giustizia dalla parte dei deboli. Programma banche. Credito al paese reale. Stop agli speculatori. Difendiamo il risparmio. Ridiamo sovranità economica ai cittadini. Programma fisco. Meno tasse, più sviluppo. Un fisco giusto e sostenibile per rilanciare il nostro paese. Programma sanità. Un paziente non è un cliente. Dalla parte dei cittadini contro chi specula sulla salute. Programma agricoltura. Un'agricoltura sostenibile. Il rilancio dell'eccellenza italiana. Tra politiche europee ed esigenze del territorio. Programma trasporti. Faremo muovere l'Italia in maniera sostenibile. Meno auto private. Più trasporto pubblico locale. Il cittadino sempre al centro. Programma turismo. Non esiste miglior ambasciatore al mondo del turista. L'Italia ha bisogno di un turismo strategico, sostenibile, innovativo e digitale. Programma telecomunicazioni. Per un paese connesso e innovativo. Priorità alla banda larga e accesso alla rete. Una riforma RAI per rendere finalmente indipendente il servizio pubblico. Programma telecomunicazioni.